Eccoci ben trovati, siamo finalmente arrivati agli ultimi due webinar di Paleo System Academy 2019 sono anche gli ultimi due webinar del percorso badge stampa 3D per i bisogni speciali questi due video sono finiti in coda a tutto il programma per un motivo molto semplice perché in qualche modo durante questa video lezione ripercorreremo, ripasseremo alcune nozioni e informazioni che abbiamo già incontrato e affrontato in altri webinar sulla robotica, sul coding o sulla stampa 3D per questo più avanti nel video troverete un montaggio di spezzoni estratti da altre video lezioni da altri webinar inframezzati da alcune informazioni testuali sotto forma di sottotitoli o diapositive quindi vi auguro buon lavoro e ci vedremo nuovamente in questo 2020 con tutta la nuova programmazione Paleos del perché ho iniziato a pormi il problema di come rendere accessibili i giocattoli quindi non sempre ci sono riuscito, ho fatto vari esperimenti nei miei anni da logopedista a volte ci sono riuscito, altre volte meno però tutto è un po' nato quando tutto questo tentativo o questi tentativi sono partiti quando ho conosciuto questo sito specialeffect.org.uk me lo ha fatto conoscere una collega logopedista e loro sono un ente no profit inglese la cui unica missione, unica diciamo missione proprio operativa quotidiana è quella di adattare e rendere accessibili di fatto i controller dei videogiochi ok? vi mostro l'ultimo loro video di presentazione per farvi capire meglio che cosa fanno ok? come vedete in parte diciamo mescolano i controller da videogiochi che usiamo tutti e cercano poi di trovare un ponte fra quelli e sensori e controller tipici diciamo del mercato degli ausili informatici ok? chi ha già visto vari miei webinar sul tema di ausilioteca, bisogni speciali insomma probabilmente ha già visto cose del genere durante i miei webinar questi sono i classici pulsantoni chiamati anche sensori si possono mettere anche alla testa, a volte funzionano coi cavi, a volte funzionano col bluetooth e poi ci sono insomma vari sistemi di supporto e di ancoraggio i vari magic arm della manfrotto che vengono usati poi ci sono joystick che poi vengono interfacciati con i videogiochi ok? diciamo questo secondo me l'attività di special effects è molto interessante perché veramente pone, mette in evidenza questa esigenza e la possibilità di lavorare su determinate tecnologie in realtà di queste esperienze in giro per il mondo ce ne sono varie di solito la cosa interessante è diciamo la specializzazione special effects lavora sui videogiochi ci sono altri articoli e altre esperienze soprattutto sui controller musicali eccetera eccetera io mi sono posto la domanda qualche tempo fa, l'anno scorso dato che stavo facendo una formazione per l'ufficio scolastico regionale a vari docenti di sostegno qui in Toscana, in tutte le province e diciamo che era una formazione appunto sulla personal fabrication quindi sulla possibilità di potersi costruire dei sussidi didattici o degli ausili che favorissero l'inclusione ovviamente potersi costruire a scuola in un normale laboratorio un normale atelier creativo, un normale fab lab della scuola con le attrezzature che ci possono essere e mostravo ai docenti che il tema dei giocattoli accessibili o dei giocattoli adattati nel mercato dei bisogni speciali e degli ausili esiste di già, cioè è una categoria tradizionale non è che l'ho inventata io o l'ha inventata special effects se vado in un sito di un'azienda che vende tecnologia assistiva per gli ausili eccetera, vado c'è una pagina appunto dedicata ai giocattoli adattati e possiamo un po' vedere alla fine in cosa consiste l'adattamento dei giocattoli di solito consiste sempre nel aggiungere la possibilità come in questo maialino ve lo mostro di aggiungere, vedete qui c'è un mini jack femmina l'adattamento consiste nel poter in qualche modo guidare quel giocattolo azionare quel giocattolo con un singolo sensore ovvero con un singolo pulsantone quelli che avete visto anche nel video di special effects quei pulsantoni colorati ok? più o meno con lo stesso principio funziona anche la pista e altri giochi vedete qui la macchinina e il fornetto che ho messo anche prima nelle slide vedete anche qui questi sono alcuni dei pulsantoni che si usano eccetera quindi diciamo tutto il principio dei giochi adattati anche a livello proprio ufficiale è basato su questo a mettere un sensore, un controller in qualche modo accessibile dal punto di vista motorio ovviamente come nel video di special effects avrete visto sto parlando di sostanzialmente di disabilità motoria di disabilità neuromotoria che poi è stata la disabilità su cui ho lavorato di più durante i miei anni da logopedista ok? torniamo un attimo alla slide precedente che non vi mostrerò tutta la presentazione perché mi interessa solo mostrarvi questa foto durante un convegno sono venuto a conoscenza di questo progetto qui fatto presso l'istituto Sant'Anna di Pisa qui in Toscana e che cosa hanno fatto loro? chi di voi conosce la robotica educativa avrà sicuramente riconosciuto il B-Bot che cosa hanno fatto in questo progetto? hanno hackerato il B-Bot semplicemente per venire incontro diciamo alle esigenze di alcuni piccoli pazienti con grave disabilità motoria ma molto adeguati dal punto di vista cognitivo volendo rendere accessibile l'attività di coding del B-Bot che come sapete è abbastanza semplice insomma soprattutto andando avanti durante gli anni della primaria volevano renderla accessibile anche a questi ragazzi con grave disabilità motoria questa disabilità motoria ovviamente impediva di poter programmare il robot con i suoi tasti posti sul dorso semplicemente perché sono troppo piccoli e quindi hanno realizzato questa grande console in legno con i tastoni che riproducono i comandi che ci sono sul dorso del B-Bot e questa console poi è collegata via cavo alla scheda interna del B-Bot quindi questo per dire che anche quest'idea in qualche modo di cercare di hackerare di forzare un po' i limiti dei giocattoli o degli oggetti che si possono usare per il coding o la robotica educativa non è una mia invenzione ma insomma c'ha un precedente istituzionale molto importante insomma dell'istituto Sant'Anna di Pisa se andate a cercare anche online troverete che è stato un progetto se non sbaglio finanziato da fondazione Team ora non ricordo precisamente insomma comunque questa foto l'ho trovata su Google quindi se cercate Sant'Anna B-Bot dovreste riuscire a trovare qualche informazione se non sbaglio è stato un lavoro di 3, 2 o 3 anni fa ok? bene, bene quindi questo per fare un po' un'introduzione teorica come ho detto nel video di, diciamo prima precedentemente durante il video di benvenuto cercheremo di spiegare brevemente come poter sfruttare App Inventor e un telefono Android per poter in qualche modo guidare eduino semplicemente perché è il robot che uso più spesso ed è anche un robot relativamente versatile e malleabile perché partiamo partiamo dall'estensione Mekimeki per Scratch 3 ok? questo link lo trovate tutti i link che vi mostro sono inclusi nella nella descrizione del video quindi nella sezione sottostante alla finestra del video qui siamo in questa è una pagina del sito Mekimeki che comunque vi consiglio di visitare perché è pieno di risorse per gli educatori e per gli insegnanti e c'è una breve descrizione dell'estensione che è stata fatta per Scratch 3 ci sono dei video eccetera adesso però per rendervi la cosa più pratica condivido subito la finestra di Scratch 3 allora arrivo finestra dell'applicazione devo aprire Scratch che è sempre qui nel browser eccolo qua ok allora intanto chiaramente Mekimeki emulando i tasti della tastiera può ovviamente essere utilizzato usando i blocchetti situazioni scusate eccolo qua quindi semplicemente mettendo spazio mettendo un altro tasto della tastiera freccia su, freccia giù eccetera possiamo far muovere il nostro personaggio il nostro sprite dentro Scratch utilizzando il Mekimeki mettendo i tasti della tastiera perché Mekimeki di base appena uno lo tira fuori dalla scatola emula i tasti della tastiera torno un attimo in webcam per farvi vedere che che io ho qui con me un Mekimeki che userò durante la presentazione quindi come dire tutte le cose che farò dentro Scratch sono effettivamente simulate in tempo reale sul Mekimeki che ho qui con me ok torno a condividere lo schermo quindi se faccio quando si preme il tasto spazio per esempio faccio muovere o ruotare il nostro personaggio il gattino io se premo il sensore spazio su Mekimeki il nostro gattino girerà stessa cosa se premo spazio sentite il suono se premo spazio sulla tastiera del mio pc ok una cosa molto interessante che è stata introdotta da questa nuova edizione di Scratch è l'estensione Mekimeki per accedere alle estensioni devo andare qua in basso a sinistra dove c'è aggiungi un'estensione Mekimeki eccola qua l'estensione e voilà e vengono fuori questi due blocchetti il primo blocchetto funziona più o meno allo stesso modo di quello che vi ho fatto vedere prima spazio freccia giù freccia su freccia destra freccia sinistra e ci sono anche le lettere voi direte dove sono le lettere sul Mekimeki queste altre lettere ve lo mostro torno in webcam le lettere sul Mekimeki sono sul retro sulle linee laterali se andate a vedere in questo caso qui su questo lato sul lato sinistro della scheda c'è la W la A la S la D la F e la G come faccio ad accedere a questi a questi tasti semplicemente posso usare dei cavetti dei jumpers che sono quelli che si usano di solito con 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 Arduino quindi semplicemente se faccio la stessa cosa che di solito faccio con i con i cavetti a morsetto con i cavetti a coccodrillino lo faccio con questi jumpers cioè chiudo il circuito usando la mia pelle semplicemente funzionano uguale e posso accedere anche ai tasti delle lettere c'è la W e da quest'altra parte abbiamo anche altri click del mouse e il freccia su freccia destra freccia sinistra anche su quest'altro lato ok quindi adesso vi farò vedere dentro Scratch che sceglierò la lettera A per attivare e userò questi due cavetti quello nero che fa le funzioni della terra del ground e questo che attiverà la lettera A quando chiuderò il circuito con il tocco della mia della mia mano ok condivido lo schermo eccoci qui quindi come detto scelgo la lettera A tocco i cavetti che vi ho mostrato prima in webcam e vediamo vedete che il nostro gattino ruota ok quindi sapete bene che le quattro frecce e lo spazio sono posizionate sul pannello principale di Mekimeki quello dove viene proprio come dire dove si usano i cavetti a coccodrillino quindi col morsetto e le lettere invece alle lettere vi si accede dal retro utilizzando i cavetti jumpers che sono quelli classici che si usano anche con che si trovano nei kit arduino e che di solito si usano con arduino ok molto più interessante è il secondo blocchetto che è questo che è proprio un po' quello che serve per ottenere quel tipo di comportamento che viene descritto in questo tutorial che vi mostravo prima ed è descritto con questa frase qui gesture controlled scratch cioè possiamo utilizzare Mekimeki per rilevare dei gesti per esempio se io adesso guardiamo le opzioni a sinistra su a destra a destra su a sinistra a sinistra a destra vedete che ci sono tutta una serie di combinazioni di tasti da seguire in sequenza quindi in qualche modo dei tasti che descrivono un gesto un movimento per esempio se metto a destra su a sinistra ve lo faccio vedere anche in webcam per attivare il gattino insomma per fare muovere il gattino devo fare a destra su a sinistra devo seguire questo schema di movimento a destra su a sinistra ok ve lo mostro dentro scratch condivisione schermo arrivo eccoci attiviamo e vediamo a destra su a sinistra se funziona ora mi si è staccato eccolo qua eccoci sta ruotando perché sto facendo il gesto lo faccio rivedere sta ruotando perché sto facendo questo gesto ok questo è interessante perché rende un po' più articolato il modo in cui possiamo interagire con il nostro personaggio all'interno di scratch abbiamo vari schemi di movimento sinistra su destra destra su sinistra sinistra a destra da destra a sinistra su giù giù su interessante è il fatto che lui tiene per un tot per una certa finestra temporale possiamo anche avere una sequenza come questa su su giù giù a sinistra a destra a sinistra a destra quindi una vera sequenza di movimenti ciò significa che è l'unico modo che ho di far muovere il gattino con questo parametro qui è proprio quello di prendere il mio mechi mechi e fare come se stessi digitando un numero di telefono freccia su due volte giù due volte sinistra destra sinistra destra e si è mosso ok io sto proprio ora non lo vedete sto proprio digitando sul mio mechi mechi come se fosse il tastierino di un telefono su su giù giù sinistra destra sinistra destra e si muove ok altro trucco molto interessante che ci apre possibilità e su questo come dire vi invito a liberare la vostra immaginazione soprattutto se siete esperti di scratch anche più esperti di me dato che io di solito non lo uso tantissimo scratch soprattutto diciamo lo uso per spiegare alcuni concetti base ovviamente della della programmazione ma raramente insomma lavoro molto sulla grafica e sulla creazione di applicazioni quindi voi chi di voi magari è più esperto è più creativo da questo punto di vista questa cosa che vi dirò sicuramente è molto vi incuriosirà ed è molto interessante e vi invito quindi a utilizzarla possiamo creare delle nostre sequenze personalizzate ciò significa che possiamo anche potrete creare delle applicazioni dei giochi dove magari lo studente deve proprio come accadeva in alcuni vecchi videogiochi di quando ero piccolo che deve trovare qual è la sequenza dei comandi per poter far accadere qualcosa come facciamo a creare delle sequenze personalizzate andiamo nelle variabili creiamo una variabile che per esempio possiamo chiamare sequenza ok dopodiché prendiamo il blocco porta la mia variabile a lo mettiamo qua utilizziamo la situazione l'evento bandierina verde quando la bandierina verde viene premuta apportiamo la nostra variabile a e qui all'interno del parametro metteremo la sequenza che desideriamo la sequenza segreta che vogliamo in qualche modo implementare dobbiamo scrivere i comandi per il momento funziona solo con l'inglese quindi se vogliamo per esempio fare una sequenza che sia su su giù giù due volte freccia su e due volte freccia giù dobbiamo scrivere up up down down ok e devo variare a questo punto il campo il parametro della sequenza che farà ruotare il mio gattino e come si fa di solito con le variabili prendo la mia variabile scusate la variabile era sequenza la variabile sequenza e la metto qua ok in questo modo il gattino ruoterà di 15 gradi al momento in cui come dire eseguirò sul makey makey la mia sequenza la sequenza che ho scelto che ho programmato che è up up su su giù giù premo la freccia e la bandierina verde per far sì che questa sequenza in qualche modo venga registrata dentro la variabile che ho chiamato appunto sequenza e adesso vediamo su su giù giù sto facendo su su giù giù sul mio makey makey e infatti si è mosso su su giù giù su su giù giù e si è mosso ok ve lo mostro anche in webcam eccomi su su giù giù ok su su giù giù e il gattino si muove se uno volesse cambiare la sequenza semplicemente agisce su questa riga qui dove la nostra variabile sequenza viene tecnicamente si dice viene definita e possiamo in questo caso diciamo facciamo up up down down mettiamo destra poi right quindi per far sì che il gattino si muova rifaccio la bandierina verde per far sì che il gattino si muova farò due volte freccia su down down e poi destra e infatti si è mosso ok questo è una cosa che oggettivamente prima dell'estensione prima che scratch diciamo ci mettesse a disposizione l'estensione makey makey volendo era possibile farlo anche prima ma sicuramente era un po' più articolato insomma uno avrebbe dovuto usare le liste tutta una serie di cose e qui diciamo se lo ritrova già bello e pronto già pronto in una sola riga di codice ok quindi questo è una cosa molto utile da usare soprattutto per chi insomma è appassionato di scratch e vuole utilizzare makey makey per creare videogiochi piccole animazioni con un po' di domande all'interno e questo può essere interessante tornando al tutorial che vi ho fatto vedere prima infatti questo tipo che vi invito poi a il link che ce l'avete qui sotto al video vi invito a navigare dentro il sito i makey makey perché ci sono veramente tantissime risorse soprattutto per per usare makey makey con scratch e questa cosa la chiama appunto questa idea di poter creare delle applicazioni con le sequenze con i gesti o si chiama proprio secret codes in scratch cioè insomma l'idea di creare dei giochi dove magari lo studente deve proprio trovare una combinazione di tasti una combinazione di comandi per sbloccare qualcosa oppure per andare avanti ok adesso invece passiamo a un argomento un po' più complesso speriamo che funzioni tutto perché devo coordinare varie applicazioni che vi devo mostrare ed è questo makey makey avanzato ok torno un attimo in webcam makey makey avanzato che cosa significa significa che questa scheda l'ho già detto altre volte la scheda makey makey è in realtà un arduino leonardo di un'altra forma e con a cui è stato in qualche modo cambiato un circuito in modo da rendere sensibile al tocco queste parti qui ma sostanzialmente è un arduino leonardo come sapete le schede arduino sono riprogrammabili ok quindi questo significa che noi possiamo prendere il nostro makey makey e fargli fare qualcos'altro rispetto al comportamento di base che ha di base cioè quello impostato dalla fabbrica lo possiamo riprogrammare e fargli fare qualcos'altro come se fosse una scheda arduino ovviamente sfruttando anche la sua caratteristica peculiare che è quella di trasformare qualsiasi oggetto conducibile di fatto in un sensore di contatto cioè questa cosa la possiamo tenere sfruttare questa sua caratteristica hardware ma usarla anche per cose un pochino più sofisticate rispetto alla semplice emulazione di tasti della tastiera o dei tasti del mouse perché sapete bene che non tutte le applicazioni non tutte le cose rispondono poi a quei comandi soprattutto diciamo le applicazioni che ci sono all'interno di un computer ok quindi andiamo a vedere intanto come modificare come usare il makey makey come se fosse una scheda arduino quindi diciamo qui entriamo già in una serie di possibilità probabilmente un po' più dedicate alla scuola alla secondaria sia di primo che di secondo grado dove è più probabile che diciamo venga proposto arduino con questo è un file che ora vi ho semplificato perché c'aveva altre funzioni questo l'ho fatto io un po' di tempo fa lo avevo fatto allora così ve lo zoom un po' ok lo avevo fatto perché insomma come saprete chi mi segue anche negli webinar di quelli sull'inclusione sui bisogni speciali quando mi capita di lavorare o mi capito questo insomma è già da un po' che non che non faccio questo tipo di lavoro però potrebbe ricapitare esistono dei programmi che servono per allenare dei bambini dei ragazzi all'uso dei bambini e ragazzi che di solito hanno disabilità motoria grave all'uso dei sensori per comandare alcune cose in un computer di solito questi sensori questi pulsantoni sono due ed esistono dei programmi che si chiamano switch trainer che servono proprio per allenare il tempismo nel premere il pulsante in un determinato momento quindi viene proposta di dire di premere quello verde oppure quello rosso in un determinato momento eccetera eccetera quindi io avevo questo codice già fatto che sfruttava il cronometro ve l'ho un po' semplificato e vi faccio vedere intanto com'è che funziona allora io se lo faccio partire questo che scorre qui è il cronometro sta andando avanti perché lui intanto sta cronometrando il tempo da quando abbiamo aperto questo file se lo faccio se faccio partire il mio programma si resetta ed inizia il programma cosa accade vi dico velocemente il funzionamento poi analizziamo il codice rigo per rigo che cosa accade quando la freccia ora l'ho semplificato diciamo il gioco mi dà i punti che segniamo qui giusti con la variabile giusti mi dà i punti se premo la freccia destra del computer nel momento in cui il dito indica la stella verde quindi vi faccio mi avvicino il microfono al tasto così sentite che sto premendo ora sono sulla rossa e non e non mi dà punti se vado sulla verde mi dà il punto vedete ok analizziamo questo primo comportamento rigo per rigo nel codice ve lo faccio rivedere sulla verde mi dà il punto sulla rossa no ok cosa accade quando clicco la banderina la tipica banderina tipica banderina verde che cosa succede faccio a zero il cronometro che è una variabile di sistema già inclusa in scratch che io posso anche come dire rappresentare avere sempre monitorare sempre inserendola nell'interfaccia grafica cioè che io la vedo quando gioco la posso sempre vedere posso avere sempre davanti il cronometro ok come faccio a inserire per chi non lo sapesse come si fa a inserire le variabili che fa diciamo nell'interfaccia grafica in modo che siano visibili andiamo nel menu delle variabili e ora quello del cronometro non è nel menu delle variabili ma è nel menu dei sensori perché non la creo io cioè sempre scratch me la dà sempre se tolgo la spunta la variabile esiste sempre perché non è che la posso eliminare perché fa parte di scratch ma non me la rende visibile nell'interfaccia grafica se la spunto mi ritorna ok posso anche cambiare le dimensioni in questo modo andandoci sopra tasto destro normale e grande ok noterete se conoscete un po' le variabili saprete che le variabili che creiamo noi possiamo anche metterci il cursore per variare il loro valore direttamente dall'interfaccia grafica questa non ci mette a disposizione il cursore perché il cronometro non siamo noi a controllarlo è il sistema in automatico è il sistema che ha questo orologio interno su cui noi ovviamente non possiamo intervenire quindi che cosa accade quando parte il programma bandierina verde il cronometro viene azzerato vedete sac viene azzerato il punteggio dei giusti vedi porta variabile giusti a zero porta intervallo un numero a caso fra 2 e 5 infatti vedete che la variabile intervallo ogni volta che premo la bandierina verde può assumere un valore diverso tra 2 e 5 cosa indica la variabile intervallo il tempo di diciamo di alternanza fra fra la freccia rossa fra la stella rossa fra l'indicazione della stella rossa e l'indicazione della stella verde vedete quando arriva a 3 il cronometro passa su quell'altra vedete passa di qua e torna sulla se cambia ora 4 facciamo andare a 2 vediamo se esce il 2 ecco 2 2 secondi torna di qua 2 secondi torna di là ok e l'altra variabile che è scelta in maniera casuale alla partenza del programma è porta semaforo a un numero a caso tra 1 e 0 se viene 1 vuol dire che il programma parte dalla freccia verde la posizione di partenza della mano è la freccia verde altrimenti se quando partiamo viene fuori 0 la freccia la stella di partenza scusate è la stella rossa guardate semaforo 0 si parte dalla rossa semaforo 0 si parte dalla rossa semaforo 1 si parte dalla stella verde ok e questa è la parte del programma che come vedete non è inserita all'interno di nessun ciclo i cicli sono quelli che si trovano sotto il menu controllo quindi è quella parte del programma che viene eseguita solo una volta all'inizio e poi si entra nel ciclo il ciclo che uso sempre uso più spesso è quello del per sempre quindi questa parte del programma inclusa nel per sempre viene ripetuta all'infinito fino a che non stoppo con il tasto con il tasto rosso che cosa succede qui dentro se c'è un condizionale se il cronometro la variabile cronometro che la sto vedendo qui è maggiore dell'intervallo quindi se la variabile cronometro è maggiore di 2 vedete quando arriva a 2 succede qualcosa porta semaforo a 1-semaforo 1-semaforo cosa vuol dire? che se il semaforo di partenza è 0 passa a 1 se il semaforo di partenza è 1 passa a 0 ok? praticamente mi fa l'alternanza fra l'uno e l'altro ogni volta che il cronometro supera il valore scelto di intervallo e alla fine del blocco c'è l'azzeramento del cronometro per ricominciare da capo torna a 0 e ricalcola e riparte a misurare il tempo fino ad arrivare all'intervallo se il semaforo è 1 la mano si muove al costume premi verde qui c'è solo uno sprite cioè un oggetto mano vado ai costumi e vedete uno si chiama premi verde che è la mano spostata a destra e l'altro si chiama premi premi rosso che è la mano spostata a sinistra potevo anche usare per chi di voi è più diciamo si trova più assovaggio a usare i blocchi movimento potevo anche usare i blocchi movimento insomma qui in questo caso ho usato due immagini diverse cioè la stessa immagine spostata rispetto allo sfondo ma insomma qui potevamo usare anche i blocchetti del movimento questa non è ora non è l'oggetto diciamo che ci interessa mi interessa ragionare sul tempo adesso quindi vedete questo è il blocco principale e qui gira 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 e ogni volta che il cronometro supera l'intervallo la mano si sposta su quell'altro e il gioco è che teoricamente l'utente prema la freccia a destra nel momento in cui la mano indica la stella verde infatti che cosa succede in quest'altro blocco quando si preme freccia a destra se il semaforo è 1 cioè la se il semaforo è 1 quindi cosa succede vuol dire che la mano indica c'è il costume della mano che indica la la freccia la freccia verde cambia il punteggio di 1 aumentalo di 1 ok allora quindi qui abbiamo già visto il tempo dato del webinar sul tempo di come si gestisce il cronometro il cronometro è diverso dall'orologio l'orologio ha un tempo assoluto il cronometro è un tempo relativo che parte dal momento in cui avvio il programma oppure il resetto il cronometro eccetera eccetera vi faccio subito vedere due complicazioni la prima è questa riparto col mio gioco facciamo venire un intervallo di 4 va bene ok quindi ora devo premere la freccia destra del mio computer quando il dito punta sulla stella verde adesso però sentite se lo premo più volte mentre è sulla freccia sulla stella verde faccio più punti ok sentite vedete guarda faccio un sacco di punti ok questo non è un comportamento molto preciso e molto elegante sarebbe magari più interessante fare sì che io posso fare un punto per ogni diciamo per ogni item per ogni volta che viene proposto quello stimolo che ne posso fare 10 di fila ok quindi una una soluzione abbastanza elegante ce ne sarebbe anche un'altra ancora più elegante che prevederebbe la creazione di una di una variabile di stato e ora però dato che parliamo del tempo vi faccio vedere come risolvere il problema giocando solo sul cronometro può essere semplicemente risolto agganciando questa riga qua qua vediamo e poi ve lo spiego riparto sentite ho fatto solo un punto ora sono sul rosso ora vado sul verde ha preso il primo sentite che premo ma non ha preso gli altri faccio rivedere che cosa accade qui come funziona questo meccanismo di sicurezza che potremmo chiamare un po' nei codici arduino a volte lo chiamano l'antirimbalzo o qualcosa del genere che ho usato il blocco attendi e dico al blocco attendi di aspettare un tempo pari all'intervallo meno il valore attuale del cronometro attuale nel momento in cui premo il tasto quindi è come se vi dico attendi quel tempo che rimane prima che la mano si sposti sull'altro stimolo sull'altra stella perché funziona perché il blocco attendi wait se lo usate in inglese oppure delay se usate arduino che cosa che cosa fa il blocco attendi fa addormentare il programma cioè in quel in quei due secondi un secondo mezzo secondo che avanza il programma è come se rimanesse congelato dorme e quindi non riceve altri stimoli cioè li riceve perché io li metto però non li non li elabora ok quindi bisogna stare attenti a usare il blocco attendi non bisogna abusarne perché è vero che ci fa agire sul tempo perché uno dice attendo tre secondi che ne so un oggetto si muove poi attendi tre secondi e poi fai un'altra cosa ok stiamo lavorando sul tempo però c'è l'effetto collaterale che il programma si blocca per quei secondi che uno mette nel parametro attendi io ho messo questo ma possiamo indicare anche i secondi in maniera assoluta e ve lo faccio vedere adesso nel tempo che c'è dentro il blocco attendi il programma rimane proprio si addormenta e quindi questo può essere qualcosa di non desiderato perché magari vogliamo che invece il programma sia sempre attivo e stia sempre monitorando i dati e come dire i comandi in ingresso vi faccio vedere per esempio se adesso metto uno dice va beh allora per sicurezza mettiamo 10 secondi ok io faccio ripartire aspetta facciamo venire un intervallo un po' più alto 4 secondi ok premo continuo a premere ma ora che ci torna ancora non mi dà i punti perché perché il programma si è addormentato di fatto si è addormentato per il pezzo del programma che gestisce la freccia destra l'evento della freccia destra si è addormentato per 10 secondi sufficienti a che la mano torni di là e ritorni lì e quindi non mi funziona più la diciamo il comportamento che avevo previsto ok quindi il modo più elegante di ottenere questi antirimbalsi si chiamano è questo fare la differenza fra l'intervallo e il cronometro quindi ricordatevi che il loco attendi quando lo usate ricordatevi di usarlo con come di sapendo cosa state facendo perché addormenta il programma per il tempo che mettiamo all'interno del suo parametro adesso vi anticipo non ve lo faccio vedere come si fa vi dico solo che ci vuole questo blocchetto questo blocchetto da inserire nel nel corpo principale del aspettate ve lo avvicino un po' così lo vedete meglio ok non ve lo faccio vedere qui dentro scratch altrimenti c'è già la soluzione ed è la soluzione del test finale di questo questo webinar quindi ve lo faccio vedere il comportamento in un video che ho preparato e così poi voi mi dovrete dovrete chi di voi farà il test chi si è scritto a Stima Academy 2019 e quindi sta prendendo insomma state facendo gli attestati e tutte le prove per ricevere gli attestati c'è non ci sono domande ma c'è un progetto un progetto pratico che dovrete fare uno screenshot un'istantanea quindi a schermo del vostro del vostro codice che è uguale a questo che lo trovate nell'area riservata docenti dovete solo scoprire dove mettere questo blocchetto volante qui per ottenere il comportamento che vi faccio vedere ora a video allora che cosa accade qui funziona tutto allo stesso modo l'unica cosa differente è che ogni volta che la mano si muove sulla stella passa da una stella all'altra viene ricalcolato casualmente il valore dell'intervallo da 2 a 5 quindi non viene impostato una volta sola all'inizio ma ogni volta che la mano si muove su una stella non sappiamo per quanti secondi non lo sappiamo a priori per quanti secondi si soffermerà perché ogni volta che arriva lì viene ricalcolata viene ristabilita a caso con un valore tra 2 e 5 il valore dell'intervallo ok vedete ora a 4 sta a 4 secondi qui ve lo rimostro da capo 5 5 secondi qui 5 secondi qua perché è rivenuto fuori il 5 poi qui è venuto fuori il 4 quindi si sofferma 4 secondi sulla verde 4 secondi sulla rossa perché è rivenuto fuori il 4 ok quindi ogni volta che si muove viene ristabilita il valore di di questo variabile quindi faccio rivedere il codice quindi fino adesso vi ho sempre fatto vedere che la variabile intervallo veniva fuori un numero a caso fra 2 e 5 solo all'inizio ok e questo avviene ancora questo rimane uguale per far sì che venga calcolato di nuovo a caso ogni volta che il dito si sposta su una stella la domanda è dove dovete mettere questo blocco dove dovete mettere questo blocco e questo è il compito di questa di questa settimana voi lo posizionerete e farete uno screenshot della uno screenshot della schermata e lo inviate poi ci sono le istruzioni nel modulo di uscita insomma per chi di voi tanto avete già fatto chi di voi ha già fatto i test chi insomma sa che ci sono i moduli di uscita e lì ci sono le istruzioni e poi inviate lo screenshot via mail a infochioccio a paleos punto it chi non sapesse come si fa lo screenshot se usate windows basta cercare il menu diciamo nello strumento di ricerca di windows cercare cattura e viene fuori strumento di cattura fate nuovo scegliete la la modalità che preferite cattura schermo intero è più facile tac e vi fa tutto lo schermo lo salvate da qualche parte nel vostro computer dove volete ok e poi me lo inviate via mail se usate mac c'è la scorciatoia di tastiera command shift 3 se non ricordo male e se usate invece ubuntu esiste un se non sbaglio un'applicazione tipo questa di windows cattura che si chiama snapshot la cercate dentro il sistema operativo e mi mandate lo screenshot se proprio non ci riuscite fate una foto col telefono allo schermo e me la mandate via mail a info chiocciola palos.it vi entro un attimo c'era una domanda sul centro dello sprite in scratch in scratch 3 ma vediamo vediamo insieme ora immagino che per cento non non mi pare ora chiedo anche a voi se avete magari maggiore esperienza sulla parte grafica di scratch se qualcuno di voi come dire può anche rispondere in chat se non sbaglio ora controlliamo insieme il centro dello sprite cioè dell'immagine che uno importa non non è non mi sembra che sia possibile stabilire che sia l'utente a stabilire intorno a quale centro gira a meno che non faccia una traslazione rispetto a come è posizionato nel piano di nel piano di lavoro del costume però lo guardiamo insieme per sicurezza perché detto a parole è un po' difficile vediamo condividi così imparo anch'io qualcosa che magari una domanda a cui non avevo pensato per esempio se io vado a prendere il costume della della mano teoricamente se cerco di ruotarla col codice allora intanto fermiamo il cronometro me lo tolgo da davanti perché mi dà fastidio vedere il cronometro che gira se io cerco movimento dove l'è passa al costume e ruotalo di facciamo di 15 di 15 gradi dov'è qua che cosa accade no dato via ricarichiamola allora scusate se metto un bel ruota di 15 gradi qui dentro vediamo cosa accade quando va di là interessante questo ora continua a ruotare perché c'è questa condizione che lo fa ruotare la domanda penso che sia intorno a quale centro sta girando io penso che la risposta sia qui gira intorno al centro di questo intorno al centro del diciamo dell'area di lavoro perché come vedete i due sprite sono la stessa figura però io la vedo traslata quindi diciamo c'è tutto un gioco di traslazioni infatti uno può anche inserire le traslazioni all'interno qui del menu delle sprite vedete x e y quindi la questione non è tanto il centro dello sprite cioè dell'immagine scegliamo come oggetto ma il centro del piano dove posizioniamo quell'immagine quell'immagine lì è quello che gira è il piano quindi se la nostra immagine è al centro gira anche anche quello però ripeto può potrei anche sbagliarmi ora così con la domanda brucia pelo magari se qualcuno di voi è più esperto sulla parte grafica di scratch ci può ci può essere ci può essere utile io di solito lavoro su scratch ammetto che uso molto poco i menu del movimento infatti lo vedete perché mi concentro sempre molto quando faccio le formazioni sulla parte delle sulla parte delle delle variabili e dalla gestione dei dati e degli operatori matematici che sono un po' la parte che riesco meglio poi a trasferire anche nei diciamo nei webinar per gli ordini successivi di scuola se non ricordo male è così la rotazione avviene intorno al centro del piano del piano di lavoro e quindi in base a come posiziono la sprite e poi ci sono vari livelli di traslazione sia qui vedete x e y però in realtà qui me le da 0 e 0 ma nel menu costume la mia mano è traslata rispetto al piano quindi c'è un po' da capire quali sono i sistemi di riferimento semplicemente c'è un attimino da da prendere pratica poi che c'è un attimino che c'è un attimino che c'è un attimino che c'è un attimino